Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi con questo video vi vorrei fare la recensione di un libro che io avevo letto tantissimo tempo fa ma che mi è tornato alla mente in occasione del video che ho fatto per rispondere al tag dedicato ai libri in discrete domande letterarie. Se non avete visto questo video tag vi lascio il link sotto nell'info box così potete andare a vederlo. Io in occasione di questo tag ho citato questo libro perché è in qualche modo il libro che mi ha iniziato diciamo così alla lettura perché io prima di questo libro solitamente non leggevo mai nulla. Poi intorno ai 15 anni ho letto questo libro e da lì diciamo ho cominciato poi a leggere quindi insomma l'avevo citato per questo motivo però oggi vi vorrei fare proprio la recensione del libro. Il libro è questo, Cumuli di roba e di spade l'autore Alberto Marchesi ed è una storia vera quindi racconta la vera storia di Alberto della sua tossicodipendenza, di come ha iniziato, di come è riuscito ad uscirne tra lotta, fatica, disperazione e anche poi la soddisfazione di uscirne. È un libro molto molto forte nel senso che è una storia vera e non ci sono censure nel senso che comunque è molto schietto nel raccontare quelli che sono i suoi vissuti come ha iniziato a fare uso di droghe, quello che succedeva all'interno della comunità, la sua disperazione le sue emozioni quindi è veramente un libro molto molto forte. Io l'avevo letto a 15 anni e insomma è stato un libro molto intenso soprattutto da leggere a quell'età però c'è da dire che è anche un libro che a distanza di tempo io ricordo ancora quindi mi è rimasto proprio dentro perché l'autore è riuscito davvero a coinvolgermi nella sua storia quindi è scritto talmente bene che è un po' come se l'autore fosse davanti a voi e vi stesse raccontando quello che lui ha vissuto quindi è un libro che si legge veramente benissimo. Io se vi piacciono i temi forti e le storie vere vi consiglio caldamente questo libro perché davvero riesce veramente a coinvolgervi e a farvi capire quello che una persona che fa uso di droghe prova, cioè riesce a farvi capire perché si cade in questa trappola, si cade in questa rete, riesce a farvi capire perché è così difficile uscirne e soprattutto a farvi capire perché una volta usciti dalla droga in qualche modo si rasta legati ad essa come se, come dire, sì si esce però in qualche modo non si esce mai davvero del tutto almeno questo è quello che io a me è rimasto di questo libro un po' come dire, caspita una persona che fa uso di droghe anche quando riesce ad uscirne in qualche modo se ne è liberata ma solo in parte perché quella cosa farà comunque sempre parte di te è veramente un libro che mi ha colpito, mi ha colpito tantissimo e ripeto io ve lo consiglio ma attenzione perché è molto forte, ci sono dei temi molto forti quindi è un libro che va letto ovviamente se avete la voglia e la curiosità di entrare in una storia una curiosità sull'autore, io non so se qualcuno ci ha fatto caso ma Cumuli di robe e di spade è anche il titolo di una canzone degli 883 e non è una casualità non è una casualità perché Alberto Marchesi è o era, non so adesso se si frequenteranno ancora comunque era un amico degli 883 quindi di Max Pezzali e di Mauro Repetto perché ai tempi di quella canzone c'era ancora Mauro Repetto la canzone è una canzone molto bella e se voi fate caso alle parole della canzone noterete che parla di un ragazzo che ha fatto, ha cominciato a fare uso di droghe che poi è andato in comunità quindi se voi andate a sentirvi questa canzone fate attenzione alle parole vedrete che richiama proprio questo tipo di esperienza io vi lascio il link in descrizione della canzone in modo che se per caso non l'avete presente avete voglia di andarvela a riascoltare potete farlo ed è comunque una bella canzone quindi insomma non è una casualità il titolo è proprio come dire riferito a questa esperienza e la canzone è stata proprio tratta dalla storia di questo ragazzo quindi ragazzi leggete questo libro vi auguro una buona lettura vi do appuntamento al prossimo video vi mando un bacio come al solito buona giornata a tutti